Cagliari come trampolino di lancio per la nazionale italiana di pallanuoto campione del mondo in carica e vincitrice di ben tre medaglie d'oro alle Olimpiadi nel 1948, 1960 e 1992 che soggiornerà nel capoluogo isolano sino all'11 luglio per mettere a punto la preparazione in vista dell'importante evento con delle sedute approfondite di allenamento. Ma sarà anche l'occasione per la disputa della Water Polo Sardinia Cup, fortemente evoluta dal comitato sardo della Federazione Italiana Nuoto e che vedrà gli azzurri impegnati contro Croazia e Russia. Le ragioni che stanno alla base della Water Polo Sardinia Cup sono molteplici, ha detto il presidente della Fin Sardegna Danilo Russo, innanzitutto avvicinare i giovani a questa disciplina e poi in sinergia col comune di Cagliari rendere la piscina di Terramaini sempre più fruibile agli appassionati nelle varie specialità che fanno a capo alla Federazione Italiana Nuoto. Vorrei sottolineare, ha aggiunto, anche il notevole sforzo dell'assessore comunale dello sport Carlo Tac che si è subito prodigato per migliorare la struttura di Terramaini. La proficua sinergia col comune di Cagliari è incentrata anche sugli interventi architettonici per rendere l'impianto sempre più all'avanguardia. Il nostro è un comitato dalla lunga storia, ha aggiunto Danilo Russo, che si sorregge grazie ad un ufficio molto competente e molto laborioso. E poi ritengo bellissima la richiesta di collaborazione avuta da molti componenti delle squadre sarde che sono venute a darci una mano. Non nascondo che sia tutto molto impegnativo, ma è un'opportunità di crescita e di esperienza.